...dottore con informazioni vitali sul coinvolgimento sovietico in Vietnam. Abbiamo perso il contatto con la sua squadra di Sideri. Sarebbero esserci iniziali in una carta per gli altri. Lo troveremo, sarebbe. Squadra Sorge Isrei a gacciarsi. Squadra Sorge Isrei a gacciarsi. Attenzione! Riman Heider, io l'ho preso inizialmente! Sideri, rispondete! E' iniziale, Sideri, Sideri. Riman Heider! Sideri, Sideri. Sideri, lo spastodici per le granate incendiate. Dove andiamo, Mason? Riman Heider, vedo X-Tray. Ci sono i nord-vietnamiti in tutta l'ala nord. Vali a andare in arrivo. Riman Heider, in arrivo. X-Tray, potete andare. Forza, puoverci! Togliersi di mezzo, via! Oman, l'angolo a nord-est! Arrivo! Stanno occupando tutto l'edificio! La sala comunicazioni è al piano di sotto! Pensi che il disertore sia sopravvissuto all'attacco? Se è così, è un figlio di puttana bello posto! A terra! Tutto l'alto, puoverci! X-Tray, qui, Liman Heider. Usciti in fretta, restati lì dentro per sempre. Nenni Biao, la puliterà alla porta. Ricevuto, Liman Heider. Ci muoviamo. Voloto! Alla finestra! È morta! La camera blindata è laggiù! Libero! La camera blindata è stata violata! Con la chiude! Dov'è il tuo contatto? Deve essersi rifugiato nella sala comando. Forse è ancora vivo. Andiamo, seguitemi! Le camere blindate sono dall'altra parte della sala tattica. Una granata! Una granata! R.P.G. Sì! Uccisione confermata! Libero! Limanheiner, rapporto! X-Ray, i Nord e Tietanamite hanno ripreso il mark di Smith, siete tagliati fuori! Marta! Ok! Ho ricevuto Limanheiner!